Sembrava la rapina perfetta, un po' troppo forse, e poi il bottino, decisamente troppo rilevante, circa 40.000 euro tra contanti ed assegni. Elementi che hanno destato più di un sospetto nei carabinieri, dopo aver ricevuto la denuncia da parte del titolare del negozio di forniture idrauliche, Idrocentro, sabato mattina. L'uomo aveva affermato che un malvivente travisato con un casco e armato di trincetto aveva fatto irruzione nel negozio, portando via il contante e i titoli bancari, il tutto confermato dalle videocamere del sistema di sorveglianza. Ma proprio alcuni particolari del filmato hanno insospettito i militari, che in poco tempo hanno scoperto che la rapina non era altro che una truffa, congegnata dallo stesso gestore e da un complice per riuscire a giustificare vistosi ammanchi di cassa del negozio. Per coprire tali ammanchi verso la casa madre, il gestore aveva ben pensato di architettare la falsa rapina, contando sulla collaborazione di un amico 42enne, residente in provincia di Pistoia. Per i due è quindi scattata la denuncia per truffa.